olenza посмотреть Devo essere onesto, non avevo idea di come cominciare questo TEDx. O meglio, avevo così tante idee che non riuscivo a scegliere. E quindi ho fatto una cosa che non si dovrebbe fare. Ho delegato questa scelta a una macchina. Ho aperto il software che usiamo in Oblique per generare testi e scrivere articoli e gli ho chiesto, tu come inizieresti un TED che parla di intelligenza artificiale e intelligenza creativa? E la macchina mi ha generato in pochi secondi, tra l'altro, un po' di possibilità e io ho scelto questa. La macchina dice, aprirei il TED chiedendo al pubblico di immaginare un futuro in cui tutti i nostri problemi attuali sono stati risolti da macchine intelligenti. Ci sta, è una macchina che ha enorme fiducia in se stessa e pensa che un domani tutti i problemi di noi umani saranno risolti da macchine intelligenti. Però non mi sono fermato a questo. Io non avevo bisogno solo di un testo, io avevo bisogno anche di immagini. Avevo bisogno di immagini che mi accompagnassero in questo racconto. Così ho preso un altro software e gli ho detto, mi puoi generare un po' di immagini di un piccolo astronauta sulla Luna? E sempre in pochi secondi la macchina mi ha generato diverse immagini, tra cui questa e altre che vedremo lungo il nostro racconto. Questo è quello che già oggi si può fare con l'intelligenza artificiale applicata alla creatività. Le macchine oggi sono già in grado di scrivere testi, poesie, persino barzellette. Sanno generare immagini, sanno comporre musica, scrivere canzoni e questo riguarda solo l'aspetto della creatività. Più in generale, come tutti noi sappiamo, stiamo vivendo un'epoca di straordinari cambiamenti tecnologici. Un'epoca in cui stiamo passando dalla fantascienza con cui tutti noi siamo cresciuti, alla scienza fantastica con cui tutti noi cresceremo. Stiamo passando da questa idea di futuro, qui siamo giustamente un po' contro luce, quindi non so se si vede, in più mi si è anche spento il monitor. Comunque, questa idea di futuro, che è il ritorno al futuro, in cui il protagonista si trova in una città, Hillsdale, in cui i cani sono portati in giro da guinzagli artificiali, ha questa idea di presente. Un presente in cui già oggi cani artificiali, cani robot, girano per le strade. Questi sono dei robot della Boston Dynamics. Ora, se questa idea può magari spaventare, può far pensare a futuri distopici alla Blade Runner, personalmente, quella che è la mia più grande paura, la mia più grande preoccupazione, non è che la macchina un domani possa pensare come l'uomo, ma che l'uomo possa un domani pensare come una macchina, e quindi sostanzialmente smetta di pensare. L'avvento dell'intelligenza artificiale è una grandissima opportunità, una necessità per noi esseri umani, di investire su quello che è il nostro tratto più distintivo, ovvero la creatività e l'intelligenza creativa. Dunque, oggi mi fa piacere condividere con voi cinque parole controintuitive, o, per riprendere il tema della giornata, contro luce, che spero possano aiutarci a sviluppare la nostra creatività e la nostra intelligenza creativa. La prima parola è pazienza. Le macchine non hanno pazienza. Le macchine sono state fatte e pensate, programmate, per raggiungere un obiettivo, un risultato nel minor tempo possibile. Noi, umani, non siamo delle macchine, tuttavia talvolta abbiamo l'ambizione, se non la presunzione, di pensare come delle macchine. E quindi cosa facciamo? Scegliamo un'idea, prendiamo una decisione, non perché è la migliore, ma perché è la prima che ci viene in mente. Perché non riusciamo a sostenere quel sentimento di inquietudine derivante dall'indecisione. Perché, e questo è uno dei grossi drammi dell'epoca contemporanea, noi non siamo più in grado di stare da soli con i nostri pensieri. Abbiamo bisogno di occupare ogni singolo momento della nostra vita. Per farvi capire il livello drammatico che abbiamo raggiunto, nel 2014 è uscita una ricerca su Science che dimostrava come l'essere umano, le persone, preferiscono ricevere dei piccoli elettroshock al cervello, piuttosto che rimanere per un po' di minuti da soli con i propri pensieri. Le persone più creative invece, quelle che hanno un'intelligenza creativa più sviluppata, sono quelle che riescono a stare più a lungo con i problemi e quindi alla fine arrivano a soluzioni più originali. Einstein per esempio diceva, io non sono particolarmente intelligente, semplicemente so stare più a lungo con dei problemi e quindi arrivo a delle soluzioni che possono sembrare più intelligenti. Della stessa scuola, della stessa filosofia era John Glees, che è il fondatore dei Monty Python, un attore britannico, che diceva, io non sono più originale dei miei colleghi, semplicemente sto più a lungo con le mie idee, penso, ripenso, le cambio, finché non arrivo a qualcosa di veramente originale. La seconda parola è resistenza, o meglio restrizioni, comunque anche la resistenza fa parte della creatività. Restrizioni. Il software che ha generato il testo che vi ho fatto vedere all'inizio è stato allenato con una quantità di testi che un essere umano, anche se passasse tutta la vita a leggere, probabilmente non riuscirebbe a raggiungere. Noi umani abbiamo dei limiti e questo è estremamente positivo per la creatività, perché i limiti stimolano la creatività. Qui ho usato la parola restrizioni, ma potevo usare limiti appunto, problemi, errori, difficoltà, crisi, qualsiasi cosa che crei un piccolo cortocircuito, uno shock nella nostra mente e ci allontani dalla nostra routine quotidiana, ci allontani da quella che è una delle nemiche numero uno della creatività, che è la comfort zone. Noi non nasciamo creativi, noi diventiamo creativi. Se non abbiamo problemi da risolvere, se abbiamo sempre tutto quello che ci serve attorno a noi, se stiamo sprofondando nella comfort zone, la creatività e l'innovazione è inutile. Su questo un buon esempio ci arriva la Samuel Beckett. Come sapete Samuel Beckett era irlandese, tuttavia, e quindi parlava inglese, però i suoi più grandi capolavori li ha scritti in francese, non perché fosse bilingue, anzi, perché il fatto di scrivere in una lingua diversa dalla sua, mi permetteva di essere più creativo, più asciutto. Ed effettivamente diversi studi hanno dimostrato come pensare, scrivere, programmare, progettare in una lingua diversa dalla nostra, ci aiuta a superare, a bypassare quegli automatismi e quelle euristiche che abbiamo naturalmente nel cervello e che non ci permettono di essere creativi. Perché? Perché ci fanno fare in automatico sempre le stesse cose, sempre nello stesso modo. Quindi qui il consiglio è cercate di diversificare le attività che fate. Se siete un avvocato, provate a seguire un corso d'arte, se siete degli artisti, provate a seguire un corso di finanza. Se avete un budget da 100.000 euro, provate a pensare come se ne avesse 10.000. Vedete cosa tirate fuori. La terza parola è disciplina. Qui il nostro piccolo astronauta, girando sulla Luna, incontra un artista e l'artista è da lì. Quello che io trovo, parentesi, notevole in questa immagine generata da un software, in pochi secondi, intanto lo sottolineo, è che il software abbia preso una decisione 100% algoritmica di rappresentare la, penso sia la Terra in lontananza, il pianeta in lontananza, come fosse una vignetta di da lì. Io penso che un curatore potrebbe spenderci diverse pagine su questa scelta. Ma cosa c'entra da lì, o la rappresentazione quantomeno di da lì, con la disciplina? Da lì c'entra con la disciplina, perché da lì un giorno disse ho infranto il muro dell'arte con disciplina da militare. Ed effettivamente la disciplina è un elemento essenziale della creatività. Potremmo arrivare a dire che più il lavoro che vogliamo fare è indisciplinato, più serve disciplina per portarlo a termine. Diciamo che la creatività è la somma di immaginazione e disciplina. Serve l'immaginazione, serve la curiosità, serve dare spazio ai nostri pensieri, ma poi serve anche il rigore, il metodo, la disciplina per farle atterrare, per selezionare l'idea su cui investire e realizzarla. La quarta parola è concetto. E qui il nostro piccolo astronauta è stato talmente coinvolto, ispirato da da lì, che ha iniziato a dipingere. Ora, la creatività non sta negli strumenti che utilizziamo, ma nel come li utilizziamo. Quindi non sta nel cosa facciamo, ma nel come lo facciamo. Noi potremmo avere anche la tecnologia più all'avanguardia del mondo, ma se la continuiamo a usare sempre nello stesso modo, se non la utilizziamo con una mentalità creativa, allora è inutile, continueremo a fare sempre le stesse cose. Dall'altra parte Einstein insegna che ti basta una bussola per capire o quantomeno intuire che lo spazio e il tempo sono relativi. Voglio mostrarvi due dati. Il primo è questo. Il 77% è la possibilità che un domani, neanche tanto remoto, il lavoro dell'imbianchino possa essere automatizzato, ovvero fatto da un robot. Adesso vi mostro il secondo dato. 16%. 16% è la possibilità che il lavoro di un pittore, inteso come artista, possa essere fatto da un robot. Se ci pensate, il pittore e l'imbianchino utilizzano gli stessi strumenti, i pennelli e i colori. Quello che fa veramente la differenza è come li usano, il concetto che c'è dietro. Ed è questo il vantaggio di un artista o il vantaggio di un essere umano sulla macchina. Tra i tanti lavori che ho fatto nella mia vita, c'è stato anche quello del curatore d'arte. E quando di fronte a un'opera qualcuno diceva, una frase che avete detto e sentito tutti voi, a questa potevo farla anch'io, la mia risposta era, magari questa potevi farla anche tu, ma saresti stato in grado di pensarla anche tu, perché è quello che fa veramente la differenza. Io sono abbastanza sicuro che un domani una macchina sarà in grado di generare in pochi secondi centinaia di nuove opere, opere originali di Picasso. Sono già stati fatti moltissimi esperimenti in questa direzione, ma io sono altrettanto sicuro che una macchina non potrà mai vivere la vita di Picasso e quindi vivere tutti i drammi, tutti i successi, tutte le esperienze positive e negative che Picasso ha vissuto e che hanno portato all'ideazione, alla realizzazione di quadri come Guernica. L'ultima parola che volevo condividere con voi, forse la più importante di tutti, è senso critico. Già oggi la nostra vita è scandita da algoritmi che influenzano le nostre scelte. Ogni volta che come esseri umani, come persone, decidiamo di delegare a una macchina la fatica di pensare e di scegliere, che sia come iniziare il TED, come ho fatto io, che sia quale film guardare, che sia quale prodotto comprare, o peggio ancora, quale informazione leggere e quale informazione ignorare. In questo momento noi stiamo rinunciando a quello che è uno dei nostri tratti più distintivi, che è appunto il senso critico. Stiamo lentamente diventando sempre meno autonomi e sempre più automi. Quindi il mio ultimo consiglio è non fatelo mai. Non smettete mai di pensare con la vostra testa e non con quella di qualcun altro o, peggio ancora, con quella di qualcos'altro. Grazie.